In un video del lontano giugno 2020 parlavo di filologia e della grande differenza che c'è tra la filologia e la storia della letteratura. Parlavamo di filologia nell'accezione più vasta del termine, quindi sì di ricostruzione ma soprattutto di corretta interpretazione dei testi. Quindi per farla breve, molto banalmente, la filologia è quella disciplina che ti dice guarda è impossibile che Foscolo si ispirasse a Shelley quando scriveva il Carmine dei Sepolcri, semplicemente perché Shelley è successivo. Oppure guarda, Madame Bovary di Flaubert e l'Innocente di D'Annunzio sono imparagonabili tra loro perché, meno banalmente, appartengono a due modi diversi di concepire la scrittura. O ancora, guarda, non si può paragonare il socialismo di verga al comunismo di Pasolini, però ad esempio entrambi si possono paragonare con il comunismo secondo Gramsci. Insomma, tra ricostruzione e corretta interpretazione per ora ci stiamo basando sulla corretta interpretazione. Ma io per interpretare correttamente un testo devo averlo ben ricostruito, devo averlo ricostruito per bene. Cosa facilissima per i testi moderni ma molto più difficile per i testi antichi. Per questo, principalmente per i testi moderni, filologia vuol dire innanzitutto corretta interpretazione. Ma per i testi antichi si pone anche il problema di come ricostruirli per bene e il metodo più famoso per ricostruirli è il metodo Lachman. Lachman è il padre della filologia moderna e secondo il suo metodo per ricostruire bene un testo, quindi per ricostruirne la tradizione, bisogna arrivare allo stemma codicum. Cioè il codice, lo schema d'albero di tutti i testimoni di quella tradizione, di quel testo, di quella lezione. Ne parliamo meglio dopo la sigla. Tu però intanto iscriviti al canale e buttami un bel like. Vamos! Partiamo da qualche concetto introduttivo. Le fonti storiche, non filologiche, insomma storiche, prettamente storiche, le possiamo distinguere in materiali iconografiche e appunto scritte. Per le fonti materiali, chiaramente parliamo di oggetti, ma anche di resti, animali, di ossa e compagnie cantanti fossili, è una fonte materiale. Per le fonti iconografiche parliamo dei disegni, delle pitture, anche le pitture rupestri e in epoca contemporanea anche le fotografie. E per le fonti scritte parliamo appunto dei libri. Non solo libri, ma anche papiri, manoscritti e compagnie cantanti. In più, sempre storograficamente, stiamo parlando di storia, non ancora prettamente di filologia, possiamo distinguere in fonti primarie e fonti secondarie. Un manoscritto X di un autore è una fonte primaria, ma anche una copia sempre dell'opera X ad opera di un copista, sempre ripeto dell'opera X, sono tutte fonte primarie. O una stampa dell'opera X è una fonte primaria. Per fonti secondari intendiamo invece quelle che parlano dell'opera X e sono le più importanti perché spesso le fonti primarie mancano. E quando le fonti primarie mancano appunto vengono in soccorso quelle secondarie. Quindi dicevamo opere che parlano dell'opera X, di Socrate non ci è arrivato niente, però abbiamo un sacco di fonti secondarie, anche contemporanee a Socrate, che parlano degli scritti di Socrate, che parlano di ciò che diceva Socrate. La fonte secondaria A ci dice che nell'opera X c'è scritto questo, questo e quell'altro. E va bene, se lo può anche essere inventato l'autore dell'opera A, della fonte A. Se però si scopre un'altra fonte secondaria, una fonte B, che parla sempre dell'opera X e che dice le stesse cose dell'opera A, anche se magari due autori, l'autore della fonte A e l'autore della fonte B, non si conoscevano, e allora inizia ad essere attendibile la cosa. Chiaramente non è mai così facile. Prendiamo ad esempio le commedie di Terenzio. La critica contemporanea, i ratiristi contemporanei ti dicono, ti fanno proprio questa panonomia tra Plauto e Terenzio. Quindi noi dovremmo avere testi in parità di numero di Plauto e di Terenzio, ma non è affatto così. Plauto alla sua epoca era molto più famoso di Terenzio. E questo da cosa lo sappiamo? Lo sappiamo appunto da una fonte secondaria, il canone di Volcacio Sedigito, che mette Terenzio come commediografo al sesto posto, dietro a Licinio e a Tilio, che oggi non è che ce li cagiamo molto. È vero pure che in questo canone Plauto non era al primo posto, al primo posto c'era Leclerc, no scherzi a parte, al primo posto c'era Cecilio Stazio. Però tu oggi ti trovi un'infinità di fonti che parlano di Plauto, dovresti trovartene altrettanto di Cecilio Stazio, dovresti trovartene molto meno di Terenzio. In realtà non è così, anche se in epoca successiva ci sono arrivate un sacco di operi di Terenzio. E questo perché? Perché Terenzio è stato valutato in un secondo momento. Tra i suoi rivalutatori c'è stato Svetonio e quindi tu ti trovi tutta una serie di epoche di testimoni di Terenzio possumi rispetto a Terenzio, ma contemporanei rispetto a Svetonio. Anzi, se noi conosciamo il canone di Sedigito è proprio perché Svetonio l'ha aggiunto, a questo proposito naturalmente, nella sua opera La vita di Terenzio. E quindi notiamo come questa opera di Svetonio, La vita di Terenzio, diventa una fonte secondaria proprio per Sedigito. A noi ci sono arrivati solo dei frammenti del De Poetis di Sedigito e questi frammenti ci sono arrivati anche, ripeto, grazie a Svetonio. Anche se la fonte più importante del De Poetis è, dove c'è il frammento più lungo insomma, è proprio un'opera di Auleo Gellio. Svetonio si sarebbe potuto inventare sia il canone che l'esistenza di Sedigito stesso, ma se di Sedigito ne parla anche Auleo Gellio vuol dire che sarà esistito davvero, no? Non necessariamente. E se Auleo Gellio avesse parlato di Sedigito semplicemente perché l'ha letto da Svetonio? Ecco, il compito del filologo è dimostrare se sta cosa è possibile o meno. Magari si scopre che Gellio non avrebbe mai potuto leggere Svetonio o, ancora più facile come poi in realtà, si scopre che in realtà di Sedigito ne parlava già prima il vecchio. E quindi, grazie a tutte queste fonti secondarie, possiamo dire con una certa certezza, una grandissima certezza in questo caso, che il De Poetis è esistito davvero e veramente faceva la classifica del Gran Premio di Monza, cioè dei commediografi dell'età repubblicana. Questo modo di procedere a Puzzle è un modo di procedere che ha non solo il filologo, ma anche e soprattutto l'archeologo, anche e soprattutto lo storiografo. Cioè, dico per dire, il fatto che Annibale sia salito dai Balcani con gli elefanti è un fatto vero, è un fatto finto. Ne parlano parecchie fonti secondarie, ma siamo sicuri che non è un mito? Poi uno va a scavare e trova degli scheletri d'elefante nel carso e allora dice alla faccia della fake news, non è una fake news. Non si parte dal passato per arrivare al presente, e il contrario, si parte dal presente, quello che abbiamo oggi, per arrivare al passato. Vediamo quello che abbiamo oggi e da dove viene quello che abbiamo oggi. Cioè, non è che chi finanzia la ricerca si sveglia una mattina e dice se facciamo tutta l'ex yucoslame in cerca di scheletri d'elefante. No, semmai il contrario, si trova uno scheletro d'elefante nell'ex yucoslavia e lo si incasella. Cioè, facciamo un esempio con Minecraft. Ti immagina che tu devi studiare il seed di un giocatore. Vedi che ci sono delle costruzioni nel netherrock e dici, cazzo, questo per forza deve essere stato nel nether. Poi trovi un blocco di diamanti grezzo in superficie e dici, ok, questo deve avere per forza il sick touch. E seppure non trovi il piccone incantato, ma dirò di più, seppure non trovi l'incudine, libri, rapistrassuli, devi dare per forza, per scontato, che questo blocco di diamanti grezzo per stare lì deve essere stato portato col sick touch. E quindi sai che quel giocatore aveva il sick touch. Poi trovi il portale dell'end e vedi che non ci sono tutte l'enderai. Dici, ok, questo nell'end non ci è mai andato. Però poi vai avanti ancora e trovi gli shulkerborks. Stesso discorso del sick touch. Questo allora nell'end ci deve essere andato per forza. Ma come ci è andato? Magari non per quel portale? Noti ancora che ci sono delle costruzioni in acacia e che il bioma che comprende l'acacia più vicino sta a 10.000 blocchi di distanza. Come ci è arrivato? È a piedi prima di andare nel land o molto più probabile con l'elitra dopo essere stato nel land? E tu, se prima non avevi trovato gli shulkerbox, come non potevi saperlo se c'era andato nel land o meno? Poi, se vicino al bioma, con gli alberi di acacia, trovi il portale del nether e il portale del land attivato e i resti di un piccone legno e la ricostruzione è facile. La prima base era fatta lì per poi trasferirsi dove abbiamo trovato le prime costruzioni in nether. Ma se non trovi nulla di tutto questo, tu devi andartene per un'idea e soprattutto devi specificare che te ne stai andando per un'idea. Ripeto, si parte da quello che si vede, da quello che si ha, per ricostruire ciò che è stato, non il contrario. E il filologo fa la stessa cosa che fa l'archeologo. E il metodo classico per fare questa cosa, cioè ricostruire da quello che abbiamo ricostruito nel passato, è il metodo Lachman, quello che cioè tende a ricostruire, ha come obiettivo ricostruire lo schema codicum, cioè lo schema ad albero di tutti i testimoni della lezione. Il modello di Lachman è appunto diviso in due fasi. Uno, la raccolta di tutti i testimoni e due, lo stabilire le relazioni tra questi testimoni. La prima, quindi, è raccogliere tutti i testimoni di quella terminata lezione, tutti tutti i testimoni, diretti e indiretti che si siano. Quindi tutti gli scritti che trasmettono l'opera X in sé, ma anche tutti i testi che parlano dell'opera X, nonché tutti i testi che parafrasano con l'opera X. Su questi testimoni, poi, bisogna fare un'operazione di recensio e collazio, cioè di analisi e comparazione. Dopo aver fatto questa analisi e comparazione, bisogna fare eliminatio codicum descriptorum, sostanzialmente bisogna eliminare i doppioni, e una volta fatto questo, si arriva alla seconda fase, cioè lo stabilire i legami tra i vari testimoni, per arrivare alla fine alla determinazione dello stemma codicum. Facciamo un esempio. Finco Pallino, nel 1500, ha scritto un testo. Oggi disponiamo di diversi testimoni, tra cui, su un testimone, testo del 1800, diciamo testo alfa, c'è scritto, la mamma è andata a fare la spesa e ha comprato le mele. In un'altra serie di testimoni, del 1700, diciamo ramo beta, c'è scritto, la mamma è andata a fare la spesa e ha comprato le banane. In un'altra serie ancora di testimoni, chiamamolo ramo gamma, ma c'è scritto, nel 1600, c'è scritto, la zia è andata a fare la spesa e ha comprato le banane. Nel testo originale, Omega, cosa c'è scritto? È la mamma e la zia di Pinco Pallino che è andata a comprare che cosa? Le mele o le banane? C'abbiamo mille copie del ramo gamma, cento copie del ramo alfa, due copie del ramo beta. A questo punto, dice, è facile, il testo del 600 è quello di cui possediamo più copie. Siamo inoltre più vicini 1500 a Pinco Pallino che è vissuto nel 1500, pace, raga, la tradizione è la tradizione gamma. Ma manco per niente, raga, zero, non è vero, nemmeno lontanamente sta cosa. Non è affatto vero che la tradizione di cui abbiamo più testimoni sia la più attendibile, non è affatto vero che il testimone più vicino all'autore è quello più attendibile, no, no. E allora cosa ha scritto Pinco Pallino? In questo modellino, così fatto, è impossibile determinarlo. Mettiamoci l'anima in pace. Però mettiamo caso che scavando negli archivi troviamo altra roba. Due testi, di cui l'unica cosa che sappiamo è che sono della prima data del 700 sempre intitolati la spesa di Pinco Pallino. In uno, testo A, testimone A, c'è scritto La mamma è andata a fare la spesa e ha comprato le banane. Nell'altro, testimone B, c'è scritto La mamma è andata a fare la spesa e ha comprato le banane. L'errore mamma, invece che mamma, è un errore congiuntivo, cioè collega il testo A al testo B. Errore congiuntivo, congiuntivo, cioè che collega, ma è anche un errore separativo, cioè che separa, che rende indipendente, in questo caso rende indipendente, il testimone B dal ramo beta, dagli altri del testimone del ramo beta. Perché B ha copiato da A. E A fa parte del ramo beta, ma B ha copiato da quel determinato testimone del ramo beta, non dal ramo beta in generale. Scavando ancora, troviamo ancora un altro testo. Chiamiamolo testo C, ancora della prima della 700, in cui c'è scritto La mamma è andata a fare la spesa e ha acquistato le banane. Questo acquistato è un errore separativo, cioè che rende indipendente il testo C, il testimone C, rispetto ai testimoni A e B. C non ha potuto copiare da A come B ha copiato da A. Evidentemente avrà copiato da A, un altro testimone del ramo beta. Tutto molto bello, ma non sappiamo ancora cosa voleva dire Pincopallino. Quindi che facciamo? Tagliamo i fondi alla ricerca, ma mettiamo caso che troviamo qualcuno particolarmente interessato e quindi paga un filologo per scavare ancora. Si scava ancora e che si trova? Troviamo stavolta una fonte indiretta, una storia della letteratura del 700 che dice che nel testo La spesa di Pincopallino si dice che la mamma di Pincopallino ha comprato le mele. Mo, calcolando che il testo è stato scritto nel 500 e nel 600 e nel 700 troviamo a parlare solo di banane, solo in quelli del 800 troviamo a parlare di mele, è un bel problema, è un bel nodo cordiano. Come si risolve? Scavando ancora negli archivi, nelle biblioteche. Scaviamo ancora e cosa troviamo? Troviamo il testo autografo di Pincopallino che dice, preciso, sì, ci piacerebbe, ma in realtà non è così. Scaviamo ancora e che troviamo? Niente, non troviamo niente. Fin quando un bel giorno, un filologo molto talentuoso si accorge di una cosa. La E di La mamma è andata non ha l'accento. E questo accento manca a tutti i testimoni del ramo gamma e del ramo beta. E' un errore congiuntivo che collega tutta la tradizione, quindi tutti i testimoni del filone gamma e del filone beta hanno copiato da un testimone cronologicamente più antico. Tutto sto casino qua si cancella. Cioè, ce lo conserviamo per inserire un'edizione critica, ma si cancella. Siamo certi che la mamma non ha comprato le banane, o è la zia che ha comprato le banane, o è la mamma che ha comprato le mele. E se questo stesso errore, la mancanza di accento sulla E, ci sarebbe stata anche nel ramo alfa, no way ragazzi, il problema risolto è la zia ad aver comprato le banane, ma nel ramo alfa non c'è. Però io dopo tutto sto casino, sto lieto fine, cacchiarola voglio mettercelo. Lo stesso filologo molto talentuoso, guardando bene i testi, si accorge che nella tradizione gamma non c'è scritto andata, ma adanata. E a sto punto non è lui che è talentuoso, sono gli altri filologi che sono brocchi, però vabbè. E questo stesso adanata è scritto anche nella tradizione alfa. Errore congiuntivo. Quindi, a sto punto, forstiamo di più con certezza, ha scritto che la zia è andata a comprare le banane, ramo gamma. Il lavoro di ricostruzione è finito, quindi adesso inizia la parte più difficile, quella cioè della corretta interpretazione di cui abbiamo parlato già nel video di giugno 2020. Quindi per oggi è tutto. Se questo video ti è piaciuto, io ti invito a condividerlo, ti invito a farmi sapere la tua nei commenti. Se non conosci Minecraft, mi dispiace che devo schippare avanti, ma ti assicuro che quel paragone è una gran figata, me lo scriveranno sotto gli appassionati di Minecraft. E se hai proposte per qualche prossimo video, naturalmente non esitare a commentare. Noi ci vediamo prestissimo, ragazzacci, besos.